Bentornato su Zarbadrum. Oggi voglio parlarti di press roll o rullo pressato. In questo video voglio farti vedere come imparare a farlo subito dopo la sigla. Il rullo pressato è detto anche multiple bounce roll e consiste in una sequenza di colpi singoli alternati, fra mano destra e mano sinistra, suonati facendo rimbalzare le bacchette sul tamburo. Ok, questa è pura teoria, ma in pratica? In pratica ti faccio vedere due esercizi che ti possono aiutare a sviluppare il press roll. Esercizio numero uno. Tieni le bacchette solo con pollice e indice e togli le altre dita. Fai cadere la bacchetta della mano destra sul tamburo e farla rimbalzare finché non si ferma. E poi fai la stessa cosa con la sinistra. L'importante è cercare di far rimbalzare la bacchetta il più possibile per avere un enorme numero di colpi. La cosa importante per ottenere un buon rullo pressato è cercare di far vibrare le bacchette il più possibile. Quindi non stringerle troppo con le altre dita, tienile solo con indice pollice, come ho detto prima, e prova a far rimbalzare il più possibile la bacchetta. Comunque si chiama press roll perché devi anche un po' premere, pressare sulla pelle del rullante. Non basta solo far rimbalzare, ma non devi essere rigido, non irrigidire la bacchetta. Esercizio numero due. Suona una scala ritmica con quarti, ottavi, terzine di ottavi, sedicesimi, sestine di sedicesimi. Prima colpi singoli e poi facendo ribalzare le bacchette il più possibile. Ti faccio vedere come. Oltre a cercare di fare più rimbalzi possibile con ogni mano, l'altra cosa importante è cercare di far arrivare il colpo successivo quando ancora il numero di rimbalzi del colpo precedente non si è completamente spento. Guarda come. E non suonare prima una mano, far finire i rimbalzi e poi l'altra. Quindi non così. Ma invece così. Mano a mano che ti eserciti potresti riuscire a stringere sempre di più questi colpi, anche senza metronomo e anche senza una precisa scansione ritmica. Spero che questo video ti sia stato utile. Fammelo sapere nei commenti. Se i miei video ti piacciono cliccando qui e là ti puoi raggiungerne altri due. Se clicchi qui al centro puoi iscriverti al mio canale. Seguimi su Instagram e Facebook e non dimenticare di leggere gli articoli sul mio blog diventarebatterista.it. I link li trovi qui giù in descrizione. Se lo fai sei un grande. Io ti mando un grande saluto e ti aspetto alla prossima. Ciao!